E i fratelli e sorelle buona giornata con il Vangelo di oggi secondo Matteo 12 14 21 I farisei però usciti tenero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo ma Gesù saputolo si andò lontano di là molti lo seguirono ed egli guarì tutti ordinando loro di non divulgarlo perché si adempissa ciò che era stato detto dal profeta Eseia ecco il mio servo che ho scelto il mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto porrò il mio spirito sopra di lui annunzierà la giustizia alle genti non contenderà né griderà né siudirà sulle piazze la sua voce la canna in franta non spezzerà non spegnerà l'ucignolo fumigante finché abbia fatto triunfare la giustizia nel suo nome spereranno le genti Segue il commento di Don Luigi Maria Epicoco La memoria mariana della Biata Vergine Maria del Monte Carmelo credo che sia la chiave di lettura più bella della pagina nel Vangelo di oggi infatti solo Maria può illuminare il mistero della verità e dell'amitezza di Gesù che il passo di Isaia contenuto nel Vangelo ben descrive La cosa che forse però dovremmo dedurre per la nostra vita consiste nel fatto che ogni cristiano è chiamato ad assumere lo stesso stile di Cristo Maria ad esempio è una perfetta discepola perché in lei troviamo le medesime caratteristiche del figlio l'umità, l'amitezza, la semplicità, la rinuncia alla violenza fosse anche soltanto quella verbale la capacità di dire il vero senza umiliare la carità che previene ogni domanda tutto il Vangelo ad esempio descrive di Maria queste stesse cose di Gesù all'annuncio dell'angelo ascolta le parole di Gabriele lasciandosi interrogare senza prevaricare quell'annuncio con le proprie categorie anzi si fa mettere in discussione da lui a casa di Elisabetta si lascia voler bene dalla cugina fino a pronunciare Magnificat a Cana dice la verità sulla tragedia imminente di una festa rovinata e rende possibile il primo miracolo di Gesù seba ogni cosa nel cuore, il bene e il male che sperimenta non scappa nell'esperienza della croce e persevera con i discepoli devastati dalla passione in attesa dello Spirito Santo Maria stile, come Gesù è una buona indicazione per ciascuno di noi